Nessuno è nato per odiare la frase di Nelson Mandela scelta come titolo per la 22esima edizione del Meeting dei Diritti Umani promosso dalla Regione Toscana e non a caso ospitato anche quest'anno dal Mandela Forum di Firenze. 8.000 studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie della Toscana insieme l'11 dicembre per parlare di lotta all'odio in tutte le sue forme, di rispetto del prossimo, violenza di genere con i vincitori del concorso musicale Mai in Silenzio e di Costituzione che quest'anno compie 70 anni. Tra gli ospiti sul palco con il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il Presidente della Calabria Gerardo Mario Oliveiro, il parroco di Vicofaro a Pistoia Don Massimo Biancalani e Mimmo Lucano, Sindaco di Riace. Noi non vogliamo che il Meeting sia un'occasione sporadica e magari anche non incisiva ma stiamo cercando di renderla sempre di più il fenomeno finale, il momento finale di un lungo percorso con temi che si legano tutti gli uni agli altri perché tutto il lavoro che la Regione fa sulla memoria è un lavoro appunto che si lega a questo. Nel corso dell'evento sarà presentato anche il Manifesto della Comunicazione Non Ostile con dieci principi utili a ridefinire lo stile con cui stare in rete. Da quest'anno il Meeting dei Diritti Umani fa parte del programma di Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei Giovani e si inserisce nel percorso europeo Walk the Global Walk per dare spazi di partecipazione ai giovani e che culminerà nella Global Walk a maggio 2019.